Oh ragà, paranoia tecnologica, ma ti pare che devo dare l'impronta a una tecnologia che poi arriva Zuckerberg Vabbè, che te fa con le impronte digitali? Non lo so, però paranoia Pensate che... Ora no, siamo spiati dagli... Guardo l'iPhone o l'iPhone mi guardano, c'è una rima che dice questo Ma tra l'altro è il concetto di Black Mirror, no? Siamo proprio dentro, Black Mirror ha l'ennesima potenza, raga E cosa ci vuoi fare? O scappiamo via o siamo qua? È tosta, non ti nascondo che soffro del fatto che dobbiamo per forza usare la tecnologia Ed essere usati noi dalla tecnologia È veramente una specie di paradosso vivente che tutti stiamo vivendo